Siamo a Pieve di Soligo, vicino all'osteria al Portego, con il signor Sandro, che è il titolare dell'osteria, che lamenta una situazione particolare. Noi sappiamo ci sono tante polemiche riguardo la movida in Veneto, ma c'è anche poca collaborazione da parte della gente in generale, dei residenti. Insomma, non si capisce bene come si possa vivere questa movida. Ci racconti la sua situazione, signor Sandro. Buongiorno intanto. La situazione è difficile per noi che dobbiamo gestire comunque una situazione che arriva dopo un due mesi e mezzo di chiusura. Quindi per noi, la nostra clientela che arriva è oro colato per il momento, però dobbiamo gestirla. È difficile gestirla perché dobbiamo essere vigili, geometri, comunque allargare le sedute, i tavolini. È difficile gestire tutto questo perché abbiamo bisogno anche del personale per gestire tutto questo, con un fatturato chiaramente minore. Non ce la facciamo. Poi, occupando più suolo con i vari tavoli, andiamo. Di sera si va a disturbare i residenti con il vociferare della gente. Io chiedo solo più comprensione da parte dei residenti e un aiuto che ci diano, un aiuto anche le forze dell'ordine nel vigilare questa situazione, di modo che possiamo ritornare a fare il nostro lavoro. Quello solo che abbiamo sempre fatto e di cui siamo innamorati. Chiedo solo questo. Ecco, lei ha ricordato alcuni residenti che si sono lamentati un po' per il caos che provocavano i suoi clienti e sono girati anche dei video. Ecco, che cosa vuole dire in merito a questo? Forse anche a un po' di invidia che c'è fra colleghi, insomma, tante situazioni che lei ha descritto bene prima. Sì, questo, il fatto di arrivare da un tre mesi del lockdown, pensavo anche che potesse migliorare anche le persone a livello di solidarietà, però questo non è così, perché dietro una tastiera, dietro un telefono è facile fare i leoni, è facile mandare il video, un video di aggregamenti, di gente, assembramenti, quando stai dietro un video. È solo per un mattino, un po' di protagonismo in questo. Però le forze dell'ordine sono arrivate e che cosa hanno trovato nel suo locale? Nel mio locale è tutto a posto, tutto a posto con le sedute larghe, noi serviamo solo seduti, chiaramente, e le forze dell'ordine ci hanno anche aiutato, però un messaggio che voglio dare è che abbiamo bisogno di questa collaborazione, ne abbiamo veramente bisogno, di modo da poter lavorare serenamente tutti insieme.